Quando sono andati via io erano sulla dunetta Qui c'era la la Giorgia Ah va che... dietro! Eh no, sono andato Oh! Partenza valida, manca la sesta Marc, Molinari, Catufa, Traore, Martini Salto in alto, famiglia, Spicella posta, metri 1 e 64 Prima prova Salto con l'altra maschile, Spicella posta, 3 e 20 Ultimi cento metri per la prima sera sotto i suoi famigli Per chi è finito per 1 ore Per 1 tre ore accreditato senza credito Senza credito chiude a 51 e 27 Ottimo tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti